Circa 33 milioni di euro di entrate non dichiarate. Un'operazione della Guardia di Finanza ha scosso il mondo dell'odontoiatria pugliese e della Basilicata, portando alla luce un giro d'affari illecito che ha coinvolto circa 80 dentisti. Attraverso l'uso di un sofisticato software gestionale prodotto da una ditta locale, questi professionisti avrebbero occultato il pagamento delle prestazioni, sfuggendo così al fisco e alla regolare dichiarazione dei redditi. La maggior parte dei casi riguarda il territorio barese, dove sono stati effettuati circa 50 interventi di sequestro, con un imponibile nascosto di circa 22 milioni di euro. L'operazione, partita da una verifica fiscale a Bari, si è stesa rapidamente coinvolgendo varie procure della regione della vicina Basilicata. Complessivamente 47 dentisti sono sotto inchiesta per evasioni superiori ai 50 mila euro. L'indagine ha individuato il produttore del software utilizzato dagli odontoiati, la Tom Projects di Palo del Colle, e ha evidenziato il modus operandi attraverso il quale gli introiti venivano occultati. Il software, denominato Suite Medical Gold, consentiva ai dentisti di gestire una contabilità parallela, archiviata su dispositivi USB, permettendo loro di registrare prestazioni sia con sia senza fattura. Tale pratica, sebbene tecnologicamente sofisticata, è risultata essere altamente fraudolenta. Le autorità hanno emesso decreti di sequestro per recuperare il risparmio fiscale ottenuto da questi professionisti e tutti i coinvolti sono indagati per concorso in dichiarazione fraudolenta. L'indagine ha rivelato anche messaggi sul telefono dell'ingegnere titolare della ditta produttivice del software, in cui spiegava ai medici come utilizzare la funzionalità F12 per nascondere le entrate. Dopo l'operazione, i dati indicano un aumento significativo del volume di affari dichiarato dagli odontoiatri, facendo presumere che molti abbiano iniziato a dichiarare i loro veri guadagni a partire dal 2023. Questo potrebbe indicare un effetto positivo delle indagini in termini di conformità fiscale. La presidente della CAO, la Commissione Albo Odontoiati dell'Ordine dei Medici di Bari, la dottoressa Belinda Guerra, ha condannato fermamente tali comportamenti, negativo che hanno sulla reputazione dell'intera categoria. L'appello della rappresentante dei professionisti è chiaro. I cittadini devono sempre richiedere ricevute fatture per ogni servizio erogato, evitando così di alimentare un sistema di evasione fiscale che mina la solidità dell'intera società e lascia un pesante fardello alle generazioni future.